I pesi legano? Fanno diventare più grossi, più forti, più lenti in bicicletta? Il ciclista deve solo pedalare e non deve allenarsi in palestra? Questi sono tantissimi miti che ancora oggi, nonostante tutte le evidenze scientifiche, permangono nel mondo del ciclismo. Con il corso L'allenamento della forza nel ciclismo, noi di Bike Italia abbiamo voluto creare un corso online dedicato per capire come allenare la forza nel ciclismo e come cercare la corretta ipertrofia, quindi non come allenarsi per diventare grossi, ma per diventare più forti, più funzionali e più resistenti agli infortuni. Nel corso potrai vedere come allenare la forza, quindi quali sono le metodologie più indicate per il ciclista, quali esercizi con una libreria video che ti rimane in modo che tu possa poi con il tuo smartphone, per esempio, rivedere i video ed eseguire gli esercizi e quindi correggerti e poi vedere come creare un programma di allenamento della forza specifico sulle tue caratteristiche e le tue capacità in maniera completamente autonoma e anche da casa. Se sei interessato, clicca sul link.